Una bambina e basta è il titolo del libro scritto da Lia Levi, un racconto autobiografico ambientato durante gli anni della seconda guerra mondiale. Il libro nel 1994 ha vinto il premio Elsa Morante, racchiude al suo interno i grandi temi della guerra, dell'ingiustizia e della definizione del proprio io attraverso una scrittura limpida ed efficace sorretta da una interpretazione genuina come solo quella di un bambino può essere. Oggi Lia Levi è stata presente a Gela nei locali della scuola Salvatore Quasimodo. Nel libro, nel mio libro La bambina e basta, non compare mai il nome della protagonista ed è un espediente perché siccome tutti gli altri nomi l'ho cambiato, perché questo è romanzo, non è memoria, allora non potevo cambiarlo a me stessa, come in prima persona, faccio un esempio, non potevo cambiarlo perché non coincideva poi con l'autore del libro. Allora dico, sono in corso a questo espediente, io in prima persona non lo richiede. Allora mi dirà, non è questa la cosa più importante, perché ci sono dei contenuti, no? Forse voi aspettavate una risposta di questo genere, però da un punto di vista della lettura vuol dire che non hanno preso solo il fatterello, chiamiamolo fatterello, fatto tragico, ma sono attenti perché non c'è questo nome. La domanda che più mi fanno, naturalmente essendo in un mondo cattolico, lì è raccontata un mio tentativo, aspirazione alla conversione a un certo punto del cattolicesimo, e i bambini sono un po' colpiti da questo, vogliono sapere come è finita, insomma. Questa esperienza possa essere utile per fare rivivere ai ragazzi con gli occhi di una bambina, perché il libro di cui oggi Lia Levi parlerà è proprio questo, una bambina è basta, quindi rivive quell'esperienza, lei stessa la rivive dopo tanti anni, con gli occhi della bambina che era, e quindi soprattutto con la sensibilità di una bambina, e quindi anche con l'innocenza, con quelle osservazioni che sono libere da qualunque condizionamento ideologico, e credo che da questo punto di vista sia utile. Il terreno educativo è fertile proprio per questo, perché i nostri ragazzi non hanno condizionamenti economici o ideologici, con loro si può parlare liberamente e si può certamente avere la speranza di poter incidere se si fa veramente educazione. Lia Levi sarà presente nel pomeriggio alla Liceo Classico Eschilo, l'iniziativa è promossa dall'assessorato comunale alla pubblica istruzione, retto da Licia Bela. Sono veramente felice di essere qui a portare Lia Levi, che è forse l'autrice vivente più importante che abbiamo per la letteratura. sulla Shoah che abbiamo in Italia.